Ebbene carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube, un buon sabato a tutti voi. Quest'oggi vi porto, ciò che già vi ho annunciato nell'analisi e estrazione di ieri, alcuni cedolini vincenti di quei pochi che mi ascoltano e mi danno retta sui metodi spia, e di questo ne sono contento. Come si dice sempre, i pochi ma i buoni. Quindi, perché con la spia 65 di Palermo, presentata pochi giorni fa, perché è stata vinta praticamente nell'arco di sei colpi, vi ho detto attenzione al 90 di Roma. Finora vi ho presentato quattro nuove spie. Il 90 di Roma, c'era la spia 4 di Palermo con il 90 di Bari, che è uscito anche, e ci sono le due nuove. Il 90 di Milano e il 90 di Torino, che a questo punto io vi consiglio di prendere la previsione, con la modalità vincita e venuta dedicata. Chiaramente io vi regalo anche il metodo completo da cui si è generata la previsione, quindi quel metodo spia rimane sempre vostro, lo potete sempre utilizzare. Quindi questo è un grande vantaggio. Nell'estrazione di ieri, venerdì 20, andiamo a vincere sulla ruota di Roma un bellissimo ambosecco, 86-90. Oltre a alcuni cedolini che vi faccio vedere, anche del 90 di Bari, giocato molto bene di alcuni di voi che mi hanno ascoltato sul 90 di Bari, e tra l'altro c'era anche la spia 4 di Palermo che lo annunciava, e quindi un 90 di Bari ha anche giocato molto bene. Questo è il 90-86, vinto a Roma, giocato bene, vinto bene, e di questo sono contento. Noi potevamo essere molti di più, perché quel video ha fatto più di 700 visualizzazioni, quindi non arrivare neanche a 10 persone che hanno la giocata mi sembra veramente un'offesa, perché poi si vanno a perdere queste vincite. Quindi io spero che adesso si muova qualcosa, perché abbiamo la spia che ci porta il 90 a Milano e la spia che ci porta il 90 a Torino. Quando presento i metodi spia, cari amici, quando presento i metodi spia, li dovete prendere, li dovete prendere. Questo è stato un bellissimo ambosecco sulla ruota di Roma, esce prima il 90 e poi l'abbinamento 86. 5 ambi unica ruota, modalità vincita avvenuta che va accettata proprio sui metodi spia, in più vi regalo il metodo. Quindi attenzione, cari amici, non vanno perse. Non è possibile che vedo una presentazione di una spia con tante visualizzazioni e zero richieste via Whatsapp. Cioè non è possibile, non è fattibile. Ok, io sono d'accordo che magari non tutti hanno la possibilità di giocare i 5 ambi unica ruota, perfetto, ma in percentuale su un tot di visualizzazioni. Possibile mai che non ci sono 10 persone volenterose? Sto proprio volando a bassissima percentuale che vogliono giocare con me e vincere? I metodi spia non sono da perdere, cari amici. Le mie spie le conoscete da anni. Le mie spie sono selezionate e studiate in maniera accurata. Ok, vi ho dato il 90 a Roma, uscite il 90 a Roma, vi ho dato il 90 a Bari, uscite il 90 a Bari. Adesso vedrete che usciranno anche gli altri. E quando ho delle spie forti, che mi portano come calcolo il 90, io ve le vado a presentare. Io ve le vado a presentare perché sono spie che non vanno assolutamente perse. Questa è stata una bellissima vincita ottenuta in 6 colpi di gioco sulla ruota di Roma con il 90-86, un 90 regalato, tra l'altro io l'estratto, ve lo regalo in video, su una sola ruota. Qui non ci sono ruote, non c'è il gioco a tutte, non c'è il supporto nazionale, non c'è il lambetto perché ci sono tanti, adesso ci sono tanti grandissimi lottologi che fanno l'ambetto e chissà che cosa hanno vinto e si esaltano ad essere grandi del lotto. Qui abbiamo gli ambi secchi, qui abbiamo gli ambi secchi, ok? Quindi mi raccomando a prendere i metodi spia perché avete in mano degli strumenti molto potenti per andare a vincere. Tra l'altro vi faccio giocare con la vincita avvenuta, vi faccio giocare, vi do il metodo, voi questi metodi li potete collezionare, quindi mi raccomando cari amici a non perdere i metodi spia. Adesso abbiamo il 90 a Milano e il 90 a Torino. Contattatevi via WhatsApp 348 75 47 715 per accedere a questi metodi. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.